Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo rosa che offre una narrazione coinvolgente sulla complessità delle relazioni umane, sull'evoluzione dei sentimenti e sulla scoperta di se stessi. La storia, ambientata nella suggestiva cornice di Roma, cattura l'attenzione del lettore attraverso la sua combinazione di emozione, intimità e la scoperta di una possibile connessione autentica tra due persone che sembrano agli antipodi. La trama del libro Untura la scoperta dell'amore della scrittrice Daphne Tyler, servizio di autopubblicazione, è la seguente. Lavinia Proietti, romana di 35 anni, è la responsabile delle proposte turistiche di una scuola di lingue della capitale. Una donna intelligente, piena di entusiasmo e dal sorriso contagioso, è impossibile non restarne ammaliati. Conduce un'esistenza tranquilla nella frenesia di Roma, a cui ama tornare dopo i suoi stimolanti viaggi, e non rinuncia mai a una serata con l'amica di sempre. Una vita semplice ma appagante, quella di Lavinia, contornata di affetto, passioni e un lavoro che la soddisfa appieno. Una vita come tante altre, pacifica e rilassata, senza sconvolgimenti. Almeno fino a quando non arriva lui. James Smith è un diplomatico quarantenne di New York dedito alla famiglia, agli amici e al lavoro. Un vero stacanovista che non concede spazio alle emozioni. Quando però il suo team decide di spedirlo a Roma per un progetto di scambio culturale organizzato da Lavinia, il banale corso degli eventi è destinato a cambiare. Restio ad accettare a causa di ricordi del passato legati alla città che ancora lo tormentano. James non ha scelta e si trasferisce per quelli che immagina saranno i tre mesi più lunghi e complicati della sua vita. È questo il motivo per cui le loro strade sono destinate a incontrarsi, o a scontrarsi. Perché il loro inizio non promette nulla di buono, e se il buongiorno si vede dal mattino. Ma è davvero così? Costretti a lavorare insieme e complici il cibo, l'arte, la musica e la bellezza della città eterna, James e Lavinia cominceranno a conoscersi meglio e ad apprezzarsi. All'apparenza freddo e distaccato lui, razionale e diffidente lei, i due dovranno presto fare i conti con la tentazione più seducente di tutte, quella di arrendersi ai sentimenti. Ma è solo chimica? E se qualcosa di più profondo si insinuasse nei loro animi? Saranno disposti a mettere da parte le loro paure per rischiare di scoprirlo? Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie e iscriviti al canale.